Per questo mi dici, la frequenta e lui ti genera il treno di settimana, la vita, e non è così difficile guardare questa tuta lente. Poi il segnale PWM arriva all'olio, esatto, poi lì arriva. Il segnale digitale lo processi in qualche altra maniera, adesso non so. Comunque se vuoi, una volta che ci troviamo dei colori infini, possiamo decidere. Adesso intanto sistemiamo la cosa, metterlo in piedi. Comunque il cc sono... E quanto pesa nebbe il cc 4? Beh, il cc se ne vado di passare pesa poco e di segnale. Perché di quel rio pesa 1.7 kg, 1.5 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 kg. Ha con le batterie, 1.5 kg, 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 1.5 kg. Il cc 4, 1.5 kg, 1.5 kg. Se vuoi, è un po' meno, faccio il senso. Se vuoi, è un po' meno, faccio il senso. Sì, no, 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 no. Probabilmente stiamo verso 1.5 kg, così, dobbiamo guadagnare 1.5 kg, gratis. 1.5 kg, sistema. Sì, è un po' meno. Sai cos'è? Quello che ti serve è avere sempre prestazioni, ma anche avere un sistema, su cui riesci facilmente a cambiare il codice, e a testare, capire anche in dettaglio quello che stai facendo. Quella è la cosa... È di quello che mi ha fatto premere, perché da quello che ho visto il rio, è una rogna ogni volta che devi perviarci una roba. Eh sì. Per dirti... Ma voi avete fatto il fondo? Sì. Adesso andiamo a finire qui. Adesso ci sono qualche al profondo, che è di qui, tra i miei argentini, e qui facciamo il rinforzo. Sì. Per esempio, solo per fare una prova, io non potrei prendere mappia, una prova che invece è stata da fare una prova, di ammesso a farlo, ma io non potrei…